Io sono il dio del ghiaccio! Sì! Proprio così! Ciao a tutti ragazzi e bentornati, sono Bella Faccia! Oggi dobbiamo diventare degli dèi, proprio così, e oggi sarò proprio io, il re, il dio del ghiaccio! Ci sono tanti dèi oggi! Il dio del fulmine, il dio della morte, del veleno, licenziare, vabbè, è scritto vale, del fuoco, del vento, della natura, del vento! Ce ne sono di più di ogni! Ovviamente volevo questo, il fulmine, ma è sempre occupato! Devi essere sempre occupato! Zeus, questo qui è Zeus! Ok ragazzi, lasciate un super mi piace a questo video! Ed iniziamo perché oggi dobbiamo creare e potenziare la mia base del dio del ghiaccio! Sì, del ghiaccio! Sì, volevo quello del fulmine, uffa! Allora, vediamo! Cominciamo subito! Contagocce! Vai col contagocce! Sì, oggi creerò una base! Ma una base! Clicca, 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 clicca! Una base così potente che tutti gli altri dèi saranno gelosi del mio deo, del mio deo, del mio dio! Sì, proprio così! Allora, prendiami con tanti belli! Vediamo! Questa è una rampa! Io direi di prendere subito un sacco di questi cosi che producono cose! Cose strane! Ghiaccioli! Ah, sì! I ghiaccioli produciamo! Perché siamo il dio del ghiaccio e il dio del ghiaccio produce i cubetti di ghiaccio! Sì, produciamo i cubetti di ghiaccio! Allora, vediamo! Ma se io prendo un doppio costante quanto... Ah, mi costa così poco! E allora prendiamolo! Sciappiamo! Sì, sciappiamo! Il per due costante! Per due costante! Ok, allora, questo non possiamo prenderlo! Trecento? Per un coso? Produzi coso? Osidi coso sarà la parola principale del video! Oh! Guardate lui! Oh mio dio, ma quanto... Ma questo... Ma sta diventando... Oh mio dio, ma... Ha scioppato! Tu hai scioppato per diventare così! Non eri superforte! Allora, come potete vedere, tutti gli altri dèi sono superforti! E noi dobbiamo diventare come loro! No, non venire a rompere le scatole! Pareti! No! Oh cavolazzo, oh cavolazzo! Dobbiamo fare le difese! Dobbiamo fare le difese perché verranno a rompere le scatole sicuramente! Ok, un upgrade! Un super ghiazzolo! Produci ghiaccio! Fantastico! Produci, produci il ghiaccio, produci il ghiaccio! Guardate quanti soldi che sto facendo! Per fortuna che ho fatto il per due, mamma mia! 2005! Ok, acquista arma! Sì! Ok, vediamo! Lama di ghiaccio! E magia del ghiaccio! Iniziamo con la lama! Questa sì che è un'arma da dio! Ecco qua! Io sono il dio! Bella fassa! Proprio così il dio del ghiaccio! Un secco! Io che tocco il ghiaccio! Ok, andiamo a rompere le scatole! Andiamo a rompere le scatole! Ma prima fammi fare un altro super dropper! E fammene fare anche un altro! E vai! Oh! Ma qua lo sto volando! Oh mio dio! Ve lo dicevo! Guardate quello lì! È il dio del... Di cos'era? È del vento! Quello lì è il dio del vento! Guardate! Vieni qua! Vieni giù! Che ti faccio vedere io! Guardate! Oh mio dio! Sono potentissimi! Distrutto! Il dio del ghiaccio è più forte di tutti! È più forte! Ma quello lì che è? Era una nuvola? È meglio andare ad equipaggiarci ragazzi! Perché ve lo dicevo che questi qui sono super forti! Sono potentissimi eh! Ok! Allora abbiamo anche la magia del ghiaccio! Il libro incantato! Guardate che roba! È... È... Un lobo a lui! Come stai tu! Scampi giganti e timboc tu! Sì! Proprio così! Magia del ghiaccio! What's up! Io! Nevica! Facciamo nevicare! Sì! Evviva! Evviva! Magari esistesse un dio che fa nevicare così! È... Buon Natale! Buon Natale! Vieni qui ti faccio vedere la magia del ghiaccio! Pa 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 pa! Ehi! Ma non gli fai niente? È... C'è... Ci siamo fatti a vicenda! Ah mamma mia! Gli dei sono troppo potenti! Gli dei sono troppo potenti! Ok! Dobbiamo fare una base gigantesca! Aggiornamento del muro! Qui non ci entra più nessuno! Ve lo dico io! Qua non ci entra più nessuno! Ecco qua! Mettiamo questo! Poi vediamo! Cosa possiamo fare? Il secondo piano! E acquistiamolo questo secondo piano! Vediamo qua! Game Pass! Game Pass! Solo Game Pass! Qua! Ok! Andiamo di sopra! Va che meglio! Ma che bello! Che bello ragazzi! Oh! Devo riprendere la mia spada! E il mio libro! No vabbè! Ma quanto sono belli! Guardate la lama del ghiaccio! Cioè guardate che bella! È bellissimo! Il libro però è fantastico che fa nevicare! Ok! Andiamo di sopra! Vediamo! Ehm... Ok! Prendiamo un dropper! Prendiamone un altro! Ok! E ne prendiamo anche un altro! Ok! Fantastico! Qua sopra vediamo! Pareti! Pareti! Ci servono più pareti! Perché gli altri dei sono super potenti! Gli altri dei guardate quello lì del tuono! Uh! Anche quello del veleno! Quello della morte? Dov'è? È là! Ah no! Quello della morte! Quello del veleno è ancora iniziato! Nessuno ha scelto quello della natura! Ma perché nessuno sceglie quello della natura? Allora vediamo un pochettino! Andiamo a pigliare i soldi! Andiamo a pigliare i soldi! E dopo andiamo! Andiamo ad affettare! Tutti qualcuno vuole entrare! Eh! Non si può entrare! Vieni qui amico! Facciamo nevicare! Nevica! 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 Vieni qui! Vieni qui! Hai paura? Io sono il dio del ghiaccio! Devi avere paura! Devi spaventarti! Mi ha tirato una palla di fuoco! Maledetto! Con chi pensi di avere a che fare? Io sono il dio del ghiaccio! È inutile che scappi! Che ti nascondi! Guardate come corre via! Che codardo! Vieni qui che ti affetto! Ti affetto! Vieni qui! Fatti affettare! Oh! È scappato! Eh! Sarà meglio che scappi eh! Mamma mia! Ah! Ma era ragazzi! Aio! Era il dio! Era il dio del fuoco! Ecco perché era debole contro di me! Perché io... Aiuto! Io sono il dio del ghiaccio! Palle di neve! Palle di neve! Io... 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 Brava! Sei stata brava! Questa qui invece chi è? È la dea? È la dea? È lei qua di fianco! Chi era? È la dea del vento! Strano però che mi abbia battuto! È molto strano! Guardate quanti soldi che facciamo! Ho entrato qualcuno! Aiuto! Il dio della morte con gli scheletri! Non t'azzardare! Ah! Gli scheletri! Guardate! Ma che è? Ma mi prendi in giro! Aiuto! 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 Sei pazzo! Sei fuori di testa! Ti affetto! Vieni qui! Chi ti ha detto ad entrare? Affettato! Ma avete visto? Oh mio dio ragazzi! Questo qui era il dio della morte! Avete visto? Ha generato gli scheletri! Ma è bellissimo! Oh mio dio questo gioco è troppo bello! Ok! Super dropper! Continuiamo! Super dropper ancora! E non ho più soldi! Mamma mia! Gli sto spendendo tutti! Però sono messo bene eh! Oh cavolo! Quello del fulmine è messo super super bene! Allora vediamo! Bisogna muoversi! Mi servono altre armi! Mamma mia! Quanto era forte quello della morte ragazzi! Ah! È entrato qualcuno! Oh mio dio! Chi ti ha dato il permesso? Maledetta! Guardate! Oh mio dio! Chi ti ha dato il permesso? Faccio nevicare! Basta! Adesso faccio nevicare! Nevica! È di sopra quella maledetta eh! Nevica! 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 Avete visto che ha preso l'armatura? Ha preso... Chi è che sta volando qua? No vattene via! Ma venite tutti a rompermi le scatole a me! No dobbiamo fare il muro! Dobbiamo fare il muro perché stanno continuando a rompere le scatole! Oh no il dio del vento! Ma non era l'altra la dea del vento? Che cavolo vuoi te eh? Vieni! Fatti avanti! Io così! Mamma mia che colpo! Metà vita gli ho cavato! Anche lui! Prossimo colpo è fatale! Io così! Io così! Beccati questo! Sì! Distrutto! Bella! Ah c'è il vincitore! Yeah! Ah! Che cavolo è? Mamma mia maledetto! Ah! Maledetto! Ve l'ho detto! Questo era il dio! Che sputa! Che... Che... Il coso? Come si chiama? Mi sto confondendo con tutti questi dei! È del vento! È il dio del vento! Avete visto? Ok vediamo! Armi! Servono delle armi più potenti! Ok! Eh... Personal ne... Neve! Morf nel dio del ghiaccio! Diecimila! Sì! Eccolo il dio del ghiaccio! Voglio diventare il dio del ghiaccio! Sì! Voglio diventare... Ah! Yeah! 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 Sì! Sono il dio del ghiaccio! Sì! Sono io! Non ho paura di niente! Abra cadabra! Sono diventato fortissimo! Ok! Fantastico ragazzi! Siamo diventati superforti! Chi è il prossimo che vuole venire a sfidarmi? Eh? Guardate quanti soldi! 53k! Ma siamo ricchi! Sono un dio! Sì! La prossima volta se vi piacerà ragazzi! Eccone un altro! Non si cazzo! Oh! Ci siamo fatti a vicenda! Maledetto! Mi aveva rubato i vestiti! Avete visto? Come ha usato a rubarvi i vestiti del dio del ghiaccio? Ma come usa questo qui? Ma come ti permetti? Eh? Tu non puoi diventare il dio del ghiaccio! Solo bella faccia può diventare il dio del ghiaccio! Trasformazione in dio del ghiaccio! Ecco qua! Oh no! Sta tornando! Ma basta rompermi le scatole! Neve! Basta! Ma questo qui ha rotto le scatole! Ma fatti una vita fratello! Ok! Prendiamo un altro dropper! Prendiamo le scale! Non vogliono farmi costruire! Poi vediamo! Prendiamo! Eh? Ok! Prendiamo questo! Oh! Alleluia! Ok! Prendiamo questo! E anche questo! Oh! Sì! Nuove armi! Oh! Lo scettro di neve! Cosa fa? Giang! Ci vedi che... Ok! Questa qui è una pozione del ghiaccio! Che cosa... Che cosa fa secondo voi questa pozione? Non so! Scopriamolo! Andiamo di sopra? Venite! Venite! Venite che vi faccio vedere io! Ok! Sta arrivando! Beviamo la pozione! Oh! Oh! L'ho bevuta! Ma vado superforte! Oh! Mamma mia! Che mi fa fare sta pozione? Pozione del ghiaccio! Ui! 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 Beccati! Beccati lo scettro magico del potere! Zing! U! 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 La mossa finale di prima! La mossa... Nevica! 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 Dov'è? Dov'è? È andato via quel maledetto! Vieni qui il maledetto che ti spiezi in due! Eh? Hai avuto paura? Guardate che codardo se n'è andato! Ma guarda un pochettino! Hanno tutti paura del re del ghiaccio! E volevo dire il dio del ghiaccio! Soldi! Soldi! Servono soldi! Perché gli dèi qua fuori sono superpotenti e sono arrabbiatissimi! 50.000! Ok! Andiamo di sopra! Brrr! Che freddo che fa qua dentro! Tutti vengono da me! Eh? Pensate che il dio del ghiaccio sia scarso ma invece molto potente! Ok! Prendiamo una rampa delle armi! Poi vediamo! Decorazioni! Vai! Poi! Acquista! Oh non ho più soldi! Non ho più soldi! Oh i ghiaccioli! Ah sì! Perché il dio del ghiaccio d'ora è il ghiaccio ovviamente! Venite qui che vi spiezo in due! Eh? Dove siete? Con la mia bacchetta magica vi neutralizzo! Oh è uscito quello lì! No! N'è entrata un'altra! Più! Beccati questo! Guardate il dio del fuoco! Oh mio dio! Guardate che roba è fortissimo! No ragazzi è troppo potente! Sicuramente avrà preso dei potenziamenti! Oh mamma mia è troppo forte! È troppo... Non ho capito sta pozione a cosa serve! Ad andare veloce forse! Sì serve ad andare veloce forse! Serve ad andare veloce! Basta! Fermati! Ah no! Mi cura! Mi cura la vita! Ho capito! Pozione della salute! Però è strano! È qua pozione della salute! Ok! Acquista decorazioni! Sì! Lo scettro finale! Bastone del ghiaccio! Ma ce l'avevo già il bastone del ghiaccio! E questo è ancora più potente! Oh lanci i cubetti di ghiaccio! E beccati sti cubetti di ghiaccio maledetto! Eh? Vieni qua sotto! Lanci i cubetti di ghiaccio! Bam! Oh mamma mia è troppo divertente ragazzi! Lanci i cubetti di ghiaccio! Cubetti di ghiaccio! Non posso volare! Non posso volare ma almeno venite qua sotto! Faccio vedere io! Vi spacco in due! Venite qua sotto! Sbam! Vieni qui sono qui ehi ehi sono qui! Vieni cubetto di ghiaccio! Vieni qua sotto amico! Vieni! Qualcuno vuole affrontarmi? Sono qua sotto! È lassù quel maledetto! È là sopra! Vieni qua sotto! Ti faccio vedere io! È sceso! È sceso quel maledetto! Ti spiace in due! È quello del fuoco! È il dio del fuoco! Aaaaaaah! Ciccaccio! Aia! Cosa uso! Pozione! Ah! Beccati questo! Beccati questa! No! Ha evocato gli scheletri! Ma scusa ma questo è del fuoco? E ha rubato forse i poteri del dio della morte! Oh mamma! Beccati questo maledetto! Sì! Nella testa l'ho preso! Eeeh! Sto arrivando! Zan! Zan! Scendi! Guardate come scappa quel codardo! Mamma mia! Sono il più forte! Oh! Il dio del fuoco! È vero! È vero il dio del fuoco! Beccati questo dio del fuoco! Ti distruggo! Pozione! Sto arrivando maledetto! Iaaaa! Nevica! 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 Vieni qui! Vieni qui! Ti spacco! Scappi solo! Sei solo a scappare maledetto! Vieni qui che ti spie sto! Dai ti assoli! Dai! È andato via! Guardate che nabbetto! È scappato! È scappato quel nabbetto! Guardate come scappa! Oh! Piano! 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 Piano amico! Beccati questo cubetto di ghiaccio! Vieni qui! Hai forse paura? Guardate tutti scappano perché sono potentissimo! Sono io e il re! Il dio di tutti i die... Ehi! Di dei! Volevo dire! Il dio di tutti i... Sto facendo una confusione! Non capisco più niente! Abbiamo più di 100k! Ok! Vediamo cosa possiamo fare! Non ci sto capendo più niente! Mi si sta impappinando la lingua! Andiamo di sopra! Forza! Ok! Pozione della salute! E ci pigliamo! Oh! La pozione della salute! Ci prendiamo! Un muro finale! Fantastico! Poi questo che è? Final wall! Ok! No 50.000 mi costa ma è troppo! Ma vuoi dire che quindi ho quasi finito tutto? Wow! C'ho la pozione della cura! Però non mi serve perché nessuno può distruggermi! Guardate sono messo molto bene cavolo! Però sono messi bene tutti! Oh è uscita! È uscita! Vieni qua! Ma volate tutti! Ma non è giusto! Vieni qua sotto maledetta! Neve! Vieni! E vabbè! Vai pure là sopra tanto non c'è nessuno! Dio del fuoco! Sei qua dentro? Oh! Ma non è il dio del fuoco è il dio del fulmine! Ha rubato i poteri al dio del fuoco! Sei un ladro! Sei un ladro! Vieni qui! Vieni qui! Sei un ladro! Uh! Volevi eh! Invece no! Non sono nato ieri! Dove sei? Ah! Aiuto! Ghiaccio! Mi ha rubato il ghiaccio! Mi ha rubato il ghiaccio! Così va! Fatta fettine mamma mia! Sono troppo forte! Sono troppo potente! Sono troppo potente! Vai con i 50.000! Sì! Chiuso! Nessuno può entrare! Nessuno può più entrare! Ho finito! Che? Magneto è completo! 100.000! Ok! È l'ultimo! È l'ultimo! Oh mio Dio! Ho finito? Ho finito tutto! Non ci credo! C'è nessuno può più entrare quindi adesso! Fantastico! Sono riuscito a completare tutto il tycoon! Del Dio del Ghiaccio! 100.000 manca! Intanto che aspetto che produce faccio a fettine tutti! Venite un po' eh! Vi distruggo in me che non si dica! Ah! Sono qua dentro maledetto! Dove sei tu? Ti sto aspettando! Non c'è nessuno qua dentro! Mi frego i tuoi soldi! Posso fregarmi i tuoi soldi? No eh! Ma è qua sopra! È qua! Dov'è? Eccolo! Eccolo! Era lì! Maledetto è andato via! Ah! Beccati il cubetto di ghiaccio! Dov'è? 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 È là giù! È là giù! Beccati questo! Beccati quest'altro! Potere del ghiaccio! Sbum! Col cubetto di ghiaccio! Potere della neve! Ma guardate dove scappa! Sei un codardo! Siete solo dei codardi! Ve lo dico io! Ah! Lo sapevo che il mio dio era il migliore! Proprio così! Fulmine mi hai molto deluso eh! Guardate il dio del ghiaccio! Il più forte del mondo! Abbiamo centomila! Abbiamo centomila! Muoviamoci! Andiamo di sopra! A completare tutto il Tycoon! E spendiamole sti saldi! Wow! Sì! Il premio! Il premio! Grazie mille! Ho completato il Tycoon! Ragazzi! Spero che il video vi sia piaciuto! Fatemi sapere se volete che giochiamo con un altro dio la prossima volta! Magari con quello del fuoco! O con quello del fulmine! Davve la faccia è tutto! E ci vediamo presto in un nuovo fantastico video di Roblox! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.